Ciao a tutti, bentrovati nel canale e vi lascia vivere oggi parleremo di cambiamento di sesso ma voi ve lo siete mai chiesti no? come sareste stati in caso fosse stato uomo o donna no? cioè ovviamente dipendete dal sesso io me lo sono chiesto qualche volta ma se fosse stata un uomo? allora sarebbe stato un guaio grosso specialmente se fossi alta allo stesso modo perché non arrivo a 1,60m quindi se fosse stata un uomo sarebbe stato un pochettino peggio con fido madre natura mi avrebbe fatto un pochetto più alto almeno come mio pace però non lo so ragazzi quindi che cosa è successo? finalmente con le moderne tecnologie abbiamo modo di vedere la nostra faccia almeno la nostra faccia come sarebbe se fossimo del sesso opposto perché esiste FaceApp e FaceApp è un'applicazione che appunto vi modifica i connotati trasferendoli da uomo o donna o da donna uomo il che è bellissimo quando passate da uomo a donna perché praticamente l'app cosa fa fondamentalmente senza cambiare fondamentalmente più di tanto del vostro viso vi aggiunge caratteristiche femminili o maschili nel caso degli uomini quindi aggiunge dei capelli meravigliosi in più il make up vi toglie eventuale barba eccetera e quindi generalmente gli uomini portati a donna sono bellissimi su FaceApp tant'è che qualcuno sicuramente sta pensando di cambiare sesso perché dice probabilmente io vivrei molto meglio la lesbica a questo punto vedo che sono bellissima da donna sì mi piacciono le donne è meglio che meglio traslare mentre non è altrettanto carina la situazione se passate da donna a uomo per dire io ho provato e il trauma mi è rimasto per giorni e giorni ho aperto FaceApp ho selezionato una foto che è quella nel sito e praticamente c'è l'opzione di passare da uomo con barba appena accennata a opzione uomo con barba incolta eccola qua in entrambi i casi l'applicazione non ha rimosso le tette in questo caso e praticamente mi ha lasciato delle spallettine microscopiche cioè veramente piccole da donna e ha rimosso i capelli creando però un effetto scrauso nello schermo perché l'applicazione ha appunto creato questo effetto a caso per sopperire la mancanza dei capelli non me ne sono fatta una ragione di una così tanta bruttezza in versione maschile e ho pensato appunto che al di là della faccia che non è stata la mia faccia molto tonda l'applicazione non l'ha non ha considerato che magari in versione uomo potesse avere che ne so dei zigomi più marcati non ha cambiato nulla ma ha solo messo la barba ma ha rimosso il mio make up che io avevo impiegato ben 6 minuti e 20 secondi per fare quel make up eh insomma comunque ha rimosso queste cose e non ha modificato niente da aspetto fisico è face up quindi modificava solo la faccia a quel punto mi sono detta cosa succede se io però metto la mia faccia in un corpo maschile proprio maschile proprio proviamo tante le volte a questo punto ho preso la foto con l'espressione più virile che ho potuto fare ho aperto il fedele photoshop e ho cominciato a montare la mia faccia in quella di un modello di abbigliamento non mi ricordo dove ho preso la foto ragazzi e niente ho cominciato ad adattare la mia faccia su quel corpo lì per vedere se faceva la differenza il fatto di avere spalle più larghe insomma un corpo maschile oltre avere solo la faccia maschile no e quindi ragazzi niente ho provato a cercare di mettere appunto la mia faccia in questo corpo qui a elaborare i capelli per mimetizzarli un pochino di più eh con la foto sotto e ovviamente a togliere l'estrema rotondità del viso ok e poi vabbè ho cambiato anche colore per uniformare alla fine il risultato finale mi è rimasto meno indigesto di quello che aveva prodotto face up ovviamente face up fa altre cose no tipo ringiovanirvi tipo che ne so ho provato ringiovanemente trucco mi è venuto un effetto scarlet johansson poi che ne so ho messo i capelli belli perché face up lo può fare è uno sfondo bello no tipo questo e niente sono pronta a mettere questa foto in un sito di cuori solitari no in questa maniera mi sento sola poi magari se mi scrive qualcuno gli dico ma veramente la mia vera faccia è questa che poi si è la mia vera faccia al venerdì ok ragazzi il video finisce qui abbiamo visto la mia versione uomo e chiaramente vi invito a lasciare scritto che sono l'uomo dei vostri sogni l'uomo che avete sempre sognato dovete scrivere o l'uomo che avete sempre desiderato essere lasciatemi scritto nei commenti un like se il video vi è divertito mi avete visto anche nella versione ultra mega bellerrima nella mia versione di fotografia per siti per quali solitari insomma tantissime cose in questo video e niente lasciatemi un like iscrivetevi al canale e un grande abbraccio un salutone dal canale ivi e lascia vivere ciao